C'era una volta il calcio in cui i giocatori avevano dei stipendi elevati ma non così distanti da quelli dei cittadini comuni lavoratori comuni. C'era una volta il calcio in cui era ancora un sport collettivo in cui quello che segnava si girava verso i suoi altri partner per festeggiare e non soltanto farsi vedere. C'era una volta il calcio in cui la classifica non era fatta soltanto dai soldi delle squadre in cui anche le piccole squadre potevano anche sperare di vincere il campionato. Questo calcio è finito, questo calcio è cambiato e come testimone il trasferimento di Neymar per 222 milioni al Paris Saint Germain ma anche di un altro giocatore come Mbappé per più di 100 milioni. Questo vuol dire che il trasferimento dei giocatori stesso, la vendita è diventato un spettacolo. Si parla di loro anche senza che giocano. Molto prima del gioco non ha ancora toccato una palla che si parla molto di loro. Non c'è più veramente un campionato. Si vede che alcune grandi squadre possono vincere per 4-5 a 0. Questo perché? Perché se le immagini sono viste da per tutto il mondo e dunque se Neymar mette i cinque gol si vedranno per tutto il mondo con lo spettacolo e con lo sponsor. Le squadre non hanno più rapporto con il territorio, i giocatori cambiano durante stagione di squadra. Queste somme di denaro di 222 milioni per Neymar significano ad esempio che non c'è più una credibilità per i giovani nel valore lavoro, nei studi, nel merito dello studio. Però comunque adesso possiamo andare a vedere una partita. Perché? Perché il calcio comunque rimane un legame sociale formidabile, rimane un legame intergenerazionale formidabile. E poi forse la fine dei campionati nazionali. Il calcio a livello nazionale è cambiato, non c'è più l'incertezza a livello nazionale, però c'è l'incertezza a livello europeo. La Champions League è lì che c'è l'incertezza dello sport e vuol dire che in certa maniera questo trasferimento ha trasferito il calcio a livello europeo e che cosa ha fatto gli europei, c'è l'euro, c'è Erasmus e c'è la lega dei campioni, la Champions League.